Sì, è una fase importante, è un traguardo importante per lo zoo di Napoli perché dopo circa 20 anni si apre il rettilario dello zoo di Napoli avendo effettuato un'opera di ristrutturazione nonché di ripristino dello stato dei luoghi in quanto generalmente tutta l'area dello zoo di Napoli è vincolata per cui man mano che noi riceviamo il parere della sovintendenza ovviamente ristrutturiamo tutte le aree e gli exibit proposti per gli animali esistenti nello zoo di Napoli e praticamente abbiamo varie specie di serpenti, anaconda, pitone, boa e una bellissima coppia di guanarinuceronte che è nella vasca oggi attualmente del futuro nuovo arrivo che sarà il coccodrillo che dopo 20 anni arriverà di nuovo allo zoo di Napoli Il mese diiszki E' un giorno inizia E' per il vostroiyo Molto da lei Questa mia c II E' un posto E' un posto E' un posto Vieni 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.